La Sicilia rischia l'ennesima emergenza idrica, gli invasi sono a secco. Niente sanatoria per chi è entrato con l'auto senza pass nella zona traffico limitato a Palermo. Nasce a Palermo il garante dei diritti delle persone con disabilità. Buonasera e bentrovati all'edizione serale di Media News di sabato 13 gennaio. Apriamo con l'emergenza crisi idrica. La Sicilia rischia l'ennesima emergenza idrica, gli invasi sono a secco e adesso scatterà la requisizione dei pozzi privati. Intanto il presidente del gruppo PD all'Ars, Giuseppe Lupo, ha predisposto un'interrogazione parlamentare. La provincia di Palermo rischia di andare incontro ad una nuova emergenza idrica. Il lago di Piana degli Albanesi è in una condizione allarmante. È necessario capire se la causa è legata solo alla siccità o se vi siano problemi nella rete e nel sistema di distribuzione. Chiediamo al presidente della regione, nell'Omusumeci, nella veste di Assessora d'Inter in Mallenergia, cosa si sta facendo per monitorare la situazione e quali interventi si stanno predisponendo per scongiurare una situazione che creerebbe pesanti disagi ai utenti, ai agricoltori e a tutto il territorio. Lo dice Giuseppe Lupo, presidente del gruppo PD all'Ars, che ha predisposto anche un'interrogazione parlamentare sulla vicenda. Anche altre province dell'isola, prosegue Lupo, rischiano di andare incontro ad una situazione di grande difficoltà. Non si può aspettare l'ultimo momento per intervenire e per questo chiediamo al presidente Musumeci di conoscere sin da ora quali provvedimenti si stanno adottando. In sostanza non c'è più acqua, gli invasi sono a secco e se non pioverà in abbondanza, la turnazione dell'acqua potrebbe scattare già nelle prossime settimane. La regione ha fatto partire l'iter per chiedere al governo lo stato di calamità naturale. È stato stabilito ieri nel corso di un vertice tra regione ed AMAP. Al momento, in tutto, sono disponibili appena 21 milioni di metri cubi di acqua. Lo scorso anno, nello stesso periodo, la quantità era di 4 volte superiore, circa 80 milioni. Nell'invaso Poma sono rimasti 5 milioni di metri cubi d'acqua, a fronte di una capienza di 72,5 milioni. A piena degli albanesi soltanto 1,67 milioni, quando il bacino potrebbe contenerne oltre 32. Rosa Marina, che ha una capienza di 100 milioni, ne conta 14 e Scansano sopravvive con appena 0,68. Da tempo chiediamo alla regione di procedere con lo stato di calamità naturale, dice Maria Prestigiacomo, presidente dell'AMAP. Adesso l'iter partirà. Intanto chiediamo a tutti i cittadini di risparmiare l'acqua, la nostra campagna di sensibilizzazione non si ferma. L'AMAP ha affidato sei pozzi privati, tracciaculli e falso miele, da cui conta di pescare acqua potabile, dopo il parere dell'ASP, per 200 litri al secondo. Poi si farà un collegamento tra l'acquedotto di Presidiana, Cefalù, che ha acqua salmastra con l'acquedotto di Scillato. Questo consentirà di guadagnare altri 130 litri al secondo. Se lo stato di calamità sarà accordato, si avvieranno una serie di procedure accezionali, azzerando gli iter burocratici e appellandosi ad una serie di deroghe, e poi si potranno requisire i pozzi privati. Un nuovo vertice, intanto, è stato fissato tra due settimane. Cambiamo pagina. Niente sanatoria per chi è entrato con l'auto senza pass nella zona traffico limitato a Palermo. Il Comune non sembra dunque intenzionato a cambiare idea in merito, ma si sta valutando la possibilità di pagare a rate. Un piccolo aiuto per chi ha accumulato un gran numero di verbali e dovrà pagare migliaia di euro di multe. Niente sanatoria per chi è entrato con l'auto senza pass nella zona traffico limitato a Palermo. Il Comune non sembra intenzionato a cambiare idea in merito, ma si sta valutando comunque la possibilità di pagare a rate. Un piccolo aiuto per chi ha accumulato un gran numero di verbali e dovrà pagare migliaia di euro. Intanto, mentre la ZTL continua a far discutere, il consigliere Fabrizio Ferrandelli, in consiglio comunale, rincara la dose. Il piano di mobilità del Comune di Palermo è un fallimento di questa amministrazione, ha detto, ma l'assessore Riolo non si è presentata e la seduta è stata rinviata per l'ennesima volta. Se questo è il rispetto mostrato nei confronti dei cittadini, il futuro di questa città sarà tutt'altro che errosio. Oggi avrei voluto illustrare all'assessore alla mobilità come intervenire per invertire la rotta. Per migliorare la mobilità cittadina, a mio avviso, servirebbe solo un po' di buonsenso e soprattutto avviare un dialogo con i cittadini e i commercianti che sono i primi a subire le scelte scellerate di chi sembra non vivere neanche in questa città. Ho ascoltato le richieste di aiuto provenienti da più parti e mi faccio loro portavoce. Ferrandelli poi lancia una proposta. Oggi, nonostante la seduta saltata, lancio l'idea di ridurre la ZTL al quadrilatero Macqueda-Cattedrale e di rendere percorribile la via Roma a direzione stazione, cambiando senso di marcia, fino almeno al completamento dei lavori sul passante ferroviario in via Crispi e chiedo anche che il Comune si attivi per rendere operativo un serio piano di parcheggi. Chiedo inoltre, ha aggiunto Ferrandelli, che venga impedito il transito dei mezzi pesanti nelle ore di punta lungo gli stessi assi, cioè Porto, Stadio e via Usonia. È regolamentato il carico-scarico delle merci. Non vanifichiamo il lavoro fatto fino ad ora, come le pedonalizzazioni, non ultima quella di Piazza Borsa, tagliando i bus navetta. Sulla questione interviene anche Nadia Spallitta, responsabile regionale per l'ambiente e il territorio. Sono quattro i principali punti che consentono ai cittadini multati a causa della ZTL di presentare ricorso avverso la zona traffico limitato, istituita illegittimamente dal Comune di Palermo. Il primo punto, sottolinea la Spallitta, è costituito dal fatto che la ZTL viola la legge regionale numero 3 del 2016, legge che è stata impugnata, ma che la Corte Costituzionale ha dichiarato legittima. Questa legge prevede che il Comune, prima di istituire la ZTL, vari un regolamento consigliare con le linee guida per la tariffazione, prevedendo anche le agevolazioni per chi ne ha diritto, cosa che il Comune non ha fatto. Già solo questa violazione può consentire a qualunque cittadino di presentare un ricorso. Per legge, aggiunge la Spallitta, il piano generale del traffico va aggiornato ogni due anni. L'aggiornamento deve tenere conto delle mutazioni che avvengono nel corso dei 24 mesi. Nel caso di Palermo, le novità delle quali una ZTL non può prescindere sono il tram, le pedonalizzazioni e i tagli delle corse da parte dell'AMAT, per non parlare del piano dei parcheggi mai attuato. Il terzo punto, che consente il ricorso, è rappresentato invece dal fatto che l'attuale ZTL istituita a Palermo, a mio avviso, viola l'articolo 16 della Costituzione. Non si può, come invece avviene, imporre il pass giornaliero ai non residenti al costo di 5 euro. Attualmente, infatti, spiega la Spallitta, chi non è residente nell'area della ZTL, a meno di casi speciali, non può avere il pass annuale e deve pagare 5 euro ogni volta che entra nell'area della ZTL. Questa è una limitazione che i principi del nostro ordinamento non consentono. Infine, il quarto punto è rappresentato dal fatto che l'AMAT attualmente incassa e gestisce gli introiti provenienti dalle tariffe elevate a chi entra nella ZTL senza pagare. Questo è illegittimo perché l'AMAT non può incassare e gestire questi fondi che, lo ricordo, sono a destinazione vincolata, sono cioè risorse che debbono essere utilizzate per le strade, non per finanziare l'AMAT. Credo, conclude Nadia Spallitta, che sia opportuno che il Tar Sicilia entri nel merito dei ricorsi presentati contro le ZTL. Pertanto, verrà presentata un'istanza di prelievo per discutere di queste cause. 50 anni fa il terremoto del Belice. Domani il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, renderà omaggio alle vittime sui luoghi del dramma. Tante le iniziative previste. A 50 anni dal terremoto che devastò la Valle del Belice, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, domani renderà omaggio alle vittime sui luoghi del dramma. Il 14 gennaio del 1968, la prima forte scossa si avvertì alle 13.28, con gravi danni a Montevago, Gibellina, Sala Paruta e Poggio Reale. Una seconda alle 14.15. Nelle stesse località ci fu un'altra scossa molto forte che fu sentita fino a Palermo, Trapani e Sciacca. Alle 16.48 la terza scossa che sbriciolò i muri di Gibellina, Menfi, Montevago, Partanna, Poggio Reale, Sala Paruta, Salemi, Santa Margherita e Santa Ninfa. Nella notte alle 2.33 un'altra scossa molto violenta si avvertì sino a Pantelleria. Ma quella devastante e definitiva fu alle 3.01. Il Belice non esisteva più. I soccorritori si trovarono ad onidanzi quando riuscirono a raggiungere la valle, percorrendo strade distrutte e un paesaggio lunare, paradossale, senza vita. Nel terremoto che squassò il Belice morirono circa 300 persone, ma il numero esatto non si è mai saputo. Mille furono i feriti e 70.000 gli sfollati. Rasi al suolo paesi abitati soprattutto da vecchi, donne e bambini, visto che gli uomini erano emigrati in cerca di lavoro. E portò alla luce una realtà sconosciuta, quella della Sicilia rurale arretrata, che lo Stato aveva dimenticato. Il terremoto al Belice fu il primo grande caso del dopoguerra che mise a nudo l'impreparazione dei soccorritori, l'inerzia dello Stato, lo squallore dei luoghi, dove ancora nel 1976 47.000 persone vivevano nelle baracche, le ultime 250 furono distrutte nel 2006. Fra le tante manifestazioni, domani alle 21, presso l'area incompleta del quartiere di Via Cannitello a Santa Margherita di Belice, si terrà una veglia per evidenziare il mancato completamento della ricostruzione, l'abbandono e la precarietà delle opere incompiute, nonostante le promesse che lo Stato non è mai riuscito a garantire. Per provare a dare un segnale forte, l'amministrazione comunale di Santa Margherita, guidata dal sindaco Francesco Valenti, passerà la notte all'interno delle tende installate, presso quella che rimane ancora oggi, una delle aree incompiute della cittadina. Pozzi neri al posto della rete fognaria, cavi volanti e luci da cantiere al posto delle linee elettriche, autobotti che suppliscono all'assenza della rete idrica, banchi di terra al posto di strade e marciapiedi. Viaggio Conte non è solo. Sotto i portici di via Roma a Palermo, tante persone gli manifestano solidarietà. Tra questi anche il deputato regionale Vincenzo Figuccia. Questi lunghi giorni stanno rappresentando un momento, credo anche di riflessione per la città, che si è come fermata. Io me ne accorgo, anche se la gente passa da questa strada di fronte alle poste centrali, comunque o si ferma o rivolge un sguardo, un pensiero, anche se non è qui. Credo che sia molto in sintonia anche con quello che è accaduto a me. Io mi sono dimesso da assessore, rinunciando anche alle indennità aggiuntive, alle macchine blu, a tutto quello che rappresenta il potere che può scattuire da quella posizione. Ricordo il giorno di Capodanno, andai per strada, andai per strada e lì incontrai una persona che purtroppo era stata sottratta alla vita, una persona che era lì, morta, con gli occhi spalancati. Forse è successo qualcosa, qualcosa di intimo, qualcosa che riguarda proprio l'essenza dell'uomo. Da lì è stato un crescendo, abbiamo salvato Nino, l'abbiamo portato a casa di Aldo, quindi Nino un astro senza tetto che oggi invece ha una casa. E poi subito dopo questo incontro con Biagio. Pensate, io Biagio l'avrei dovuto incontrare quel giorno in cui è morto Amor, e invece Biagio non sono riuscito ad incontrarlo. Lui oggi dà una spiegazione, dice Dio ha voluto così, perché se noi ci fossimo incontrati nella mia mensa, tu avresti incontrato tanti poveri, ma li avresti trovati in un assetto più sereno, magari seduti a tavola, in convivialità, in un giorno di festa. Invece io quel giorno di festa dovevo essere lì per incontrare la morte di un ragazzo e per far sì che nella mia vita accadesse qualcosa di profondo. Io credo che più che una crisi economica è veramente una crisi dei valori, della fratellanza, della comunione, del rispetto fra tutti. Ecco, questa è una forte crisi, e questa è un errore abbiamo commesso, ci siamo allontanati dal nostro prossimo, ancora più grave, ci siamo allontanati da Dio e dal prossimo. E' una società che si allontana dal suo simile, dai suoi vicini, non torna bene, non può funzionare, prima o poi andrà, ecco, in crisi, entrerà in crisi, entrerà in crisi. Allora io credo che dobbiamo ritornare ai valori, dobbiamo ritornare ai sani principi, alla morale, a quell'etica profonda, preziosa. Io credo che bisogna tornare alla semplicità, anche e soprattutto alla semplicità, basta poco. Fu il sindaco dei Cento Giorni, Palermo ricorda Giuseppe Inzalaco, fu ucciso 30 anni fa in via Alfredo Cesario, per mano mafiosa, la cerimonia di commemorazione sul luogo dell'omicidio. 30 anni ricordo umano e personale dei familiari, si unisce al ricordo instituzionale della città di Palermo, che vuole ricordare nel tessimo anniversario la uccisione di Giuseppe Inzalaco, già sindaco di questa città, ucciso da un sistema di potere politico mafioso che lui aveva coraggiosamente denunciato, con atti di rottura nei confronti del passato della città e anche del suo passato personale, dimostrando un grande e straordinario coraggio. Mi ricordo ancora la camera mortuaria, quel terribile 12 gennaio, in cui non si presentò nessuno per rendere omaggio al sinnex, sinneatrucice, e l'indomani la chiesa, dove si svolgevano i studenti, generali, imbarazzantemente strapiena di uomini e le istituzioni che facevano parte di quel sistema di potere che aveva determinato la uccisione di Giuseppe Inzalaco, comunque l'occasione che sentì il dovere a nome della città di portare sulle spalle la salma di Giuseppe Inzalaco. E oggi si chiude un cerchio, un riconoscimento anche ufficiale della sua impegno da parte del governo e del Ministero dell'Interno e oggi la città ricorda un uomo e ricorda con gratitudine, perché se oggi Palermo non è più governata da quella mafia e da quella politica che insieme hanno ucciso Giuseppe Inzalaco, non c'è tema significativo anche Giuseppe Inzalaco. Nasce a Palermo il garante dei diritti delle persone disabili. Il Consiglio Comunale, su proposta di atto di indirizzo di giunta dello scorso 2013, ha approvato il regolamento dando via libera all'istituzione di questa nuova ed importante figura in seno al Comune di Palermo. Nasce a Palermo il garante dei diritti delle persone con disabilità. Il Consiglio Comunale, su proposta di atto di indirizzo di giunta dello scorso 2013, ha approvato infatti il regolamento dando via libera all'istituzione di questa nuova ed importante figura in seno al Comune di Palermo. Si tratta, ha detto il sindaco Leluco Orlando, di un'ulteriore tessera per mettere in sicurezza una città accogliente che considera la diversità un valore, rifiutando logiche di emarginazione e di mortificazione, in un anno nel quale Palermo intende confermarsi come capitale della cultura, non soltanto artistica, ma soprattutto della cultura dei diritti di tutti e di ciascuno. Per l'assessore alla cittadinanza, Giuseppe Mattina, il garante, insieme all'istituzione dell'Organismo Territoriale per i Diritti delle Persone con Disabilità, rappresentano un passaggio unico per garantire a tutti i diritti opportunità. Dobbiamo fare ancora tanto, tanto va migliorato, ma continueremo con ostinazione verso questa direzione. Nei prossimi giorni, sul sito istituzionale del Comune di Palermo, www.comune.palermo.it, verrà pubblicato un avviso per procedere all'individuazione e alla nomina del garante. Orlando e Mattina esprimono un ringraziamento al Consiglio Comunale e alla Commissione per il lavoro svolto che ha permesso l'istituzione di una figura così importante. Secondo il regolamento, il garante, tra l'altro, persegue la piena realizzazione dei diritti delle persone con disabilità, nonché l'integrazione e l'inclusione sociale delle stesse, collaborando con il garante regionale e nazionale, comunicando le eventuali violazioni della Convenzione ONU, avvalendosi anche dei rappresentanti del terzo settore. In ambito politico e privato, interviene di propria iniziativa sulla base di segnalazioni provenienti da persone con disabilità o da familiari, tutori o amministratori di sostegno, nei casi in cui emergano disfunzioni o irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o comportamenti discriminatori. Inoltre avrà il compito di promuovere, anche in collaborazione con gli enti competenti o con i familiari e associazioni di persone con disabilità, progetti individuali e ogni altra attività diretta a sviluppare la conoscenza delle norme sulla disabilità e dei relativi mezzi di tutela e potrà anche costituirsi parte civile in eventuali procedimenti penali a carico di chi abbia commesso reati contro l'autonomia delle persone con disabilità. L'intergruppo Bagheria 2.0 ha convocato una conferenza stampa per spiegare quali saranno le iniziative per il 2018. Non solo denunce, ma anche proposte. Ormai siamo l'ultima parte della legislatura guidata da Patrizio Cinque. Questo è un 2018 importante. Noi ovviamente ribadiamo di essere totalmente alternativi a questa amministrazione, ma contemporaneamente oltre alla denuncia facciamo delle proposte. La proposta che noi presenteremo in Consiglio Comunale come intergruppo Bagheria 2.0 è quella di far aderire il Comune di Bagheria alla legge passata al Senato denominata Spreco Zero. Cioè dare la possibilità a tutte le attività commerciali bagheresi e produttive che gestiscono beni alimentari di avere uno sconto sui rifiuti. In che modo? Tutte le attività commerciali, supermercati che gestiscono beni alimentari, che danno tutti quegli alimenti che si stanno avvicinando alla scadenza ad associazione Ollus o enti che si occupano di famiglie indigenti, di classi sociali svantaggiate e quindi dare la possibilità a queste famiglie di poter ricevere il mangiare gratuitamente. Queste attività commerciali ricevono uno sconto sulla tariffa dei rifiuti. ovviamente si parla di genere alimentari sia dedicati al consumo umano ma anche a quell'animale. Il comune di Bagheria deve dire soltanto di sì e quindi modificando il regolamento comunale a queste attività comunali verrà fatta una scontistica importante sulla tassa rifiuti. Ci dispiace che l'amministrazione comunale non abbia già preso in considerazione questa possibilità e che dobbiamo essere noi a farlo notare ma ovviamente il nostro ruolo è anche di proposizione. Presenteremo lunedì queste importanti emozioni in consiglio comunale. Sono sicuro che il Movimento 5 Stelle voterà favorevolmente e quindi contemporaneamente aiuteremo le nostre famiglie che si trovano in condizioni momentanee di svantaggio ma anche i commercianti che riceveranno una forte riduzione della tariffa rifiuti. Argomento delicato, spinoso che attualmente al Comune di Bagheria tiene banco e quello della nuova società multiservizi che è stata costituita dal Comune di Bagheria. Allora, lo spostamento intanto è un S.p.a. che è stata costituita mentre siamo in dissesto è stata fatta con degli atti che per noi sono non discutibili illegali abbiamo già denunciato queste cose sia in consiglio che nelle sedi opportune tutto questo già era sbagliato già prima oggi si ritrova ad andare a fare un atto da un notaio per ampliare questi poteri questi poteri a chi? Io l'ho definita assieme ad altri che era il Coires 2 no è peggio del Coires 2 perché là c'erano più comuni e più gruppi politici che aderivano qua c'è un solo gruppo politico un solo comune il danno è singolo le responsabilità sono dei singoli individui e i singoli sono questa giunta perché l'ha voluta questa giunta il sindaco e abbiamo notato anche in consiglio che parecchi consiglieri dalle interruzioni da tante discussioni che sono sorte c'erano parecchi consiglieri anche del Movimento 5 Stelle non d'accordo e non in linea a questa scelta questa scelta è folle passare i servizi come tutte le pratiche di sanatoria a una la notizia è questa a una SPA che con dei tecnichi scelti dal sindaco possono andare a gestire quindi loro dicono l'istruttore gli abbiamo fatto notare che l'istruttore è la cosa fondamentale di una pratica di sanatoria perché già viene impostata per poi dare un parere l'impinico è proprio l'istruttoria e noi che veniamo che ci sono dei procedimenti in corso per alcune persone a carico del sindaco questa cosa per noi è una cosa parecchio grave parecchio grave che denunceremo cosa è pure una cosa notevolmente gravosa di questa situazione oltre al costo economico che va a questa struttura che è inesistente non ha individui che possono lavorare fin da oggi alle pratiche quindi è tutta una cosa ad avviarsi intanto la cosa grave è che persone come Ingegner Aiello Lalo Giudice Carlo Tripoli queste sono state tutte messe in condizione di non poter lavorare per venirci a dire in consiglio che gli uffici non sono in grado di lavorare no non sono stati messi in grado proprio per poi dire facciamo noi ora con quelle persone che scelgono loro e adesso spazio alla musica domani alle 19.30 presso la chiesa Maria Santissima Immacolata nota come Anime Sante a Bagheria il concerto del coro Laudate Dominum diretto dal maestro Salvatore Di Blasi ecco l'intervista Concerto Epifania inaugura la seconda stagione concertistica Città di Bagheria del Comune di Bagheria organizzato dall'associazione Bequadro di Bagheria successa nella scorsa stagione che ha visto più di 7.000 presenze circolare a Bagheria per una stagione all'insegna della musica classica abbiamo avuto concerti che sono arrivati dal Conservatorio di Palermo anche artisti del Teatro Massimo per quanto riguarda domenica inauguriamo in modo credo straordinario la seconda stagione con il concerto dei cori Laudate Dominum la sezione Puricantores la sezione Polifonica saranno più di 100 a fare musica perché il coro sarà accompagnato dal corpo bandistico Giocancilla di Trebbia poi al pianoforte il maestro Cristina Ciulla ci saranno due ospiti cantanti lirici il soprano bagherese Veronica Lima e Nunzio Galli tenore artista del coro del Teatro Massimo di Palermo ovviamente in questa splendida chiesa dell'Immacolata di Bagheria che riprende la tradizione del concerto Epifania questo è il quarto concerto che facciamo qui su 14 momento molto bello molto importante ma soprattutto perché inaugurare una stagione che comincia a essere così bella prestigiosa e imponente dico io per Bagheria può essere semplicemente un orgoglio quindi ci muoviamo sulle note ancora del Natale ci sono dei momenti anche musicalmente molto importanti suonati soltanto dall'orchestra di fiati e addirittura dei momenti dove il pianoforte accompagnerà insieme a due oboli esattamente più di 60 cantori momento veramente straordinario per la città di Bagheria ringraziando ovviamente la parrocchia tutta della chiesa dell'Immacolata di Bagheria ovviamente il suo parroco Don Giovanni Basile che ci consente e ci ha permesso di realizzare questo concerto con grande generosità ingresso al libro gratuito fine esaurimento posti domenica a 14 gennaio alle ore 19.30 subito dopo la celebrazione serale daremo via con il concerto inaugurale che è il 14esimo concerto di Epifania sette giorni dopo Anche per stasera è tutto arrivederci alle prossime edizioni di Media News grazie a tutti